Un recente evento tenutosi a Londra ci ha permesso di provare con mano le prime tre ore di Dragon Age Inquisition in versione PlayStation 4, così da farci un'idea finalmente più precisa delle caratteristiche della produzione. La vicenda prende il via a pochi istanti dopo la conclusione del predecessore e vedrà ruoli importanti ricoperti da personaggi già ben noti ai fan della saga, come Varick e Cassandra. Per contro, il protagonista sarà completamente sconosciuto e proprio per questo i primi minuti di gioco dopo i titoli d'inizio li abbiamo spesi all'interno di un approfondito editor dell'aspetto estetico. Nella migliore tradizione ruolistica, questo terzo capitolo permette di curare l'estetica sin nei minimi dettagli. Per quanto riguarda le classi, gli archetipi principali sono Guerriero, Mago e Rogue, ma a questi vanno aggiunte le varianti. Il classico combattente, ad esempio, potrà essere da subito orientato verso il tanking oppure al dual wielding. Più sottile, dal punto di vista delle ripercussioni, la scelta della classe. Non abbiamo dubbi sul fatto che la decisione tra umani, elfi, nani o kunari avrà un impatto sul sistema di reputazione. Una volta completata la creazione del personaggio, un elaborato prologo introduce le basi del gameplay e la storia, che vede il giocatore investito di un compito fondamentale, rifondare l'inquisizione e risolvere il mistero del marchio comparso sulla sua mano in seguito al contatto con il breach, ossia un'apertura dalla quale il mondo dei demoni minaccia di straripare come un fiume in piena. Una volta concluso il lungo prologo, Dragon Age Inquisition apre al giocatore il suo complesso gameplay, fatto di molti differenti aspetti. La divisione tra quest principali e secondari e tipica dei GDR è naturalmente presente, ma in una forma rivista rispetto al solito. Ogni qualvolta una nuova quest legata alla trama si sbloccherà, occorrerà raggiungere un certo livello di potere dell'inquisizione per accedervi. Si tratta di un modo intelligente per mantenere il giocatore costantemente attivo nelle diverse attività secondarie, che vanno da classiche missioni per conto di NPC a incarichi ripetibili, come la fondazione di accampamenti dell'inquisizione e la chiusura dei varchi, dai quali i demoni cercano disperatamente di passare. Quanto alla mappa liberamente esplorabile, ne abbiamo visitato solo un frammento, peraltro molto differente dall'ambientazione vista nel prologo. Quest'ultima, decisamente dark, ha lasciato il passo ad un bosco rigoglioso e dai colori accesi, attraversato da fiumi, costellato di avvallamenti e cascate. Considerato che il gioco permetterà di esplorare sia il Ferelden sia le terre d'Orlei, tutto questo fa presagere un ambiente di gioco interessante, vasto e soprattutto da esplorare in ordine non necessariamente cronologico. I combattimenti proposti da Dragon Age Inquisition presentano una formula ibrida, che si pone volutamente a metà tra quella di Origins e quella del secondo capitolo. In altre parole, selezionando i due livelli di difficoltà più bassi sarà possibile vivere un'esperienza più orientata all'azione, sfruttando la pausa tattica solo in occasione delle boss fight. Scegliendo invece il livello difficile o incubo, fermare l'azione per impartire ordine ai membri del party sarà quasi sempre necessario. La gestione della pausa tattica siede anch'essa a cavallo tra tradizione e innovazione. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di non concedere la concatenazione di comandi multipli, creando un sistema parzialmente automatizzato. Quando si ordinerà ad un membro del party di attaccare, questo si porterà autonomamente alla distanza migliore dal nemico in base all'arma impugnata. A questo si affianca anche la possibilità di impartire comandi di movimento diretti, così da gestire nei dettagli il posizionamento di alcuni combattenti. Nel complesso il sistema ha funzionato generalmente bene durante le nostre prove, con alcune piccole riserve. La prima è relativa alla natura molto limitata dell'allontanamento di inquadratura concesso dalla visuale tattica, che a volte non permette di vedere perfettamente l'azione in corso. La seconda è invece legata al pathfinding dei compagni di squadra, che ogni tanto richiede interventi da parte del giocatore per evitare che un personaggio rimanga isolato dall'azione. Nonostante questi difetti, giocato a difficile con il fuoco amico attivo, Dragon Age Inquisition si è rivelato impegnativo sin dai primi combattimenti. Dal punto di vista grafico, la versione PlayStation 4 da noi provata ha rivelato nel complesso un buon lavoro, che parte da una modellazione poligonale di tutto rispetto, impreziosita da texture piuttosto definite. Soprattutto in questo campo si notano alti e bassi, che svelano la natura cross-gen della produzione. Davvero ottimo e senza riserve, invece, il comparto dell'effettistica, con un ottimo lavoro svolto nella riproduzione degli effetti delle magie. A pochi giorni dalla data d'uscita, fissata su PC vecchia e nuova generazione al prossimo 21 novembre, una prova delle primissime ore di gioco ci ha parzialmente convinto riguardo alle potenzialità del progetto. Dragon Age Inquisition, forte dei suoi quattro anni di sviluppo, sembra essere un punto di vero orgoglio per i ragazzi di Bioware e anche la risposta alle polemiche che hanno accompagnato il secondo episodio. Gli ingredienti per un GDR da ricordare sembrano davvero esserci tutti e anche la trasposizione console sembra essere stata portata avanti senza compromessi di sorta, perlomeno sull'attuale generazione.